Lo spende l'istruttore, i quei certificati, autentici, bollati, potà venire le peggere, la casca e non farò. Per questo mio specifico, simpatico, cronifico, un oncio in vaginario, e vale unirario, donno di dieci bamboli ancora diventò, di diecio, venti bamboli che donno diventò. Per questo doni che sarà, in breve settimana, per questo doni che non vedi, non vedi, non vedi, non vedi.